Un album che non lascia indifferenti, il fotolibro Professional Line, realizzato a mano, senza il logo del fabbricante e prodotto con materiali in alta qualità, che può essere combinato con una copertina in metacrilato. La parte frontale in metacrilato conferisce ai colori una straordinaria luminosità e brillantezza, oltre che a un incredibile senso di profondità per rendere la copertina davvero spettacolare. Si può abbinare a un'ampia gamma di rivestimenti, tra cui numerose opzioni in similpelle, come l'aspetto cuoio nero, l'aspetto cuoio bianco e l'aspetto cuoio titanio. Sono inoltre disponibili altre opzioni che riproducono il legno, come l'effetto legno grigio ardesia oppure l'effetto legno color talpa. Per chi preferisce una copertina senza la facciata in metacrilato, è possibile scegliere altri materiali, tra cui il lino naturale e la similpelle. Si può rendere ancora più personale la copertina inserendo testi e clip art e non solo è possibile configurare a propria scelta la copertina, ma anche le pagine interne scegliendo la superficie preferita, come la carta fotografica lucida, la stampa digitale in alta risoluzione opaca e la carta fotografica opaca. La rilegatura panoramica lay flat permette inoltre di disporre un'immagine su entrambe le facciate senza perdere alcun dettaglio. Il fotolibro Professional Line è disponibile in diversi formati, come quello orizzontale, quadrato e verticale, anche di diverse dimensioni. E per proteggerlo e offrire una presentazione ancora più elegante, è possibile completare il prodotto con la confezione regalo premium. Un album dal design unico, destinato a rimanere per sempre nei tuoi ricordi.